Che so i castelletti? I castelletti erano quando tu andavi in banca e chiedevi un fido, versavi, cambiali, riba, tutte quelle cose lì, le banche ti elargivano, magari facevi un castelletto, non so, da 100 milioni lo portavi a 200-300 milioni. Ma un castelletto? Ma lei è un bandito? Ma che bandito? Ma che bandito? I banditi sono gli altri. Non è che io la mattina mi alzo e metto cappuccio. Scusi, ma lei aveva un'impresa prima. La mattina a massimo prendo cappuccio la brioche. Ma lei aveva un'impresa prima. Un'impresa di parquet legno. Un'impresa di parquet. Quanti dipendenti erano? C'erano quasi più di 20 dipendenti. Poi è arrivato il gioco. Ebbè.